Era facile nascondersi in una città come quella, in più cambiava parrocchia ogni volta che andava a chiedere la busta da Caritas. Un giorno trovava un volontario che gli sorrise, lui non capì e non ricordava quel sorriso, ma tornò sempre lì. Le buste erano più gonfie e la qualità dei vestiti era migliore, infatti la parrocchia risiedeva in una zona rinca della città. Il volontario era un uomo anziano, dagli occhi velati, a cui piaceva giocare e pensava sarebbe stato altrettanto bello insegnare il gioco a quel ragazzo grande e grosso. Sicuramente giocare era un vizio, ma oggi come oggi chi non è uno? Infatti arriva il giorno in cui il volontario propose di giocare al ragazzo. Lui non capì, ma lo seguì fin dentro a casa.